A volte anche la vita apparentemente più normale nasconde una realtà parallela che non avresti mai neppure immaginato. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Ma tu chi sei? E tu? Sai davvero chi sei? Ciao, vado, entro un attimo dal capo. Scusi, posso aiutarla? Dove sta andando? Ci conosciamo? Ciao, un gioco. No, sono mica pazzi. Pazzo, pazzo, pazzo.